Ragazzi, di nuovo qui. Allora, dopo aver visto quei primi tre pacchetti, un power bank e due accessori GoPro originali, apriamo quest'altro pacco. DJI, DJI, eccolo qui. Osmo Mobile 3, Combo, vediamo. Guardate, uso anche l'accessorio, eh? Come sono? Per farlo vedere, poi lo montiamo. Merc Mini di Creative Kit, questa è per Sofia, stasera si mette all'opera e scrive. Ci sono tre fogli, diciamo, da mettere sopra del Michael bianchi, tre slide da colorare e uno già colorato, penso, non conosco il contenuto interno, e cinque colori. Unboxiamo? Sì, unboxiamo prima questo, DJI Mobile 3. Allora, unboxiamo, unboxiamo, anche perché già ieri sera, in teoria i pacchi sono arrivati ieri sera, sul tardi. Però, per unboxare non li ho fatti aprire, se n'era scordato, ma una certa ora alle 10 li voleva aprire a tutti i costi. Eccoli qui, allora, installazione, ah, i tools, questi sono istruzioni, istruzioni, installazione, tools, apriamo. dry, wet, craning, per pulire, bagnati e asciutti, ah, questo non è male, per pulirli eh, wet, dry, bagnati e quelli asciutti, fazzolettini. Allora, apriamo, non li abbiamo aperti al contrario, eccoli qui, come vedete. Cosa c'è qui, cosa c'è qua dentro? Niente, vuota! Ah, profumo, profumo, questi sono i colori. Ambozziamo, ecco, di qui. Cosa c'è? Arancione, verde, blu, rosso e giallo. Proviamo? Colorano. Guardate. Ah, profuma, profumo, profumo, profumo. Ok, togliamo. Allora, questi apriamo, vediamo, buttiamo, apriamo questi qui. Ah, bella comunque la plastica. Proprio al tatto liscia del... Eccoli qui, vedete. Ah, questo colorato è, diciamo, il faxime da, il faxime da, insomma, il faxime da colorare, oppure già, oppure è adesivo anche già da attaccare, così colorato. Ci sono questi, vedete. E poi uno, due, tre. Ah, piacere. E Sofia sicuramente questi ne apprezzerà. Beh, a piacere. Ragazzi, scusatevi. Da, 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 eccolo qui. Osmo Mobile combo. 3. Preso al DJI Store. Ecco qui. per il mio iphone pro max a 2.56 eccolo qua ok via mettiamo allora partiamo da qui vediamo un po l'apertura che cosa c'è qui allora l'accetto sicurezza la bozzetta e tre tre piedi e il cavetto scusate c'è ancora qualcosa no i gommini diciamo da montare o di riserva adesso proviamo che non ho visto il tre piedi come vedete eccolo qui tre piedi il cavetto type c type c grande dgi grande dgi che si è evoluta con il mic mic mini che vedete micro usb l'unica pecca pecca un borsellino vellutato morbido da inserire questo 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 no lo sto inserendo io non è inserito via via e qui andiamo con il scatoletta osmo mobile 3 se ne ricordiamo sempre 3 vediamo che bella questa scatoletta con un portacavi perché il tre piedi non penso che ci sia qui perché molto 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 ingombrante proviamo non penso a portare dietro dentro lo zaino anche possiamo usarlo ma abbastanza ingombrante però un quarta chiavetto c'è qui lo possiamo mettere eccolo qui eccolo qui da da nuovo 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 di pacca vorrei vedere il pezzo che l'ho pagato alla dgi store di roma originale lo mandato nuovo allora appoggiamo un attimo qui bellissima guardate definita vedete definita bene bene bella borsetta ovviamente nel mio shaker si porta benissimo allora per riposizionarlo come vedete tacchetta tacchetta giusto e qua ed è andato abbiamo di chiuso aprirlo via dovrei prendere il mio iphone 11 potesse attaccate in registrazione lo proviamo ad accendere proviamo ad accendere allora ci sono due batterie due tacchetti la terza lampeggia spento adesso che dire ragazzi senza parole senza parole senza parole il mio treppiedi lo montiamo qui vedete 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 senza parole uno spettacolo ragazzi uno spettacolo per i miei video va bene adesso sto spento rimettiamo in posizione vedete la tacchetta deve stare qui e dentro in posizione chiusa va bene ragazzi adesso vi devo lasciare devo portare la mia mountain bike in assistenza a presto questo unboxing ho altri già video pronti da montare e poi spero vi sia piaciuto se se volete potete iscrivervi al canale seguirmi ogni tanto insomma video che metto iscrivetevi al mio canale dal vostro eric vita è tutto arrivederci